Devo dire che di sicuro è un'iniziativa bella perché quando parliamo di Unicef già capisco che l'iniziativa è bella, ma soprattutto originale, io almeno personalmente ho mai visto una cosa costruita in questo modo, ma soprattutto la varietà di colori mi fa pensare un po' all'idea dell'arcobaleno, quindi le tante sfumature che la vita può offrire. Lo stavo osservando non solo per la finalità, che ovviamente concordo assolutamente per la finalità, ma l'originalità e anche la bellezza estetica con cui stanno realizzando quest'opera, con Mattoncini Lego, quindi sostanzialmente stavo pensando a mio nipote che se l'avessi qui con me non mi sarebbe venuto in aereo perché voleva rimanere a guardare l'albero. Mi sembra una bella costa e molto colorata e ci vuole, di questi tempi ci vuole, forse ragazzi. È molto bello, molto colorato e a vederlo sicuramente la mia bimba si sarebbe divertita molto, più a buttarlo giù che a costruirlo, senza ombra di dubbio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.